Quante volte mi è stato chiesto qual è il segreto per ridurre il grasso dominale? Bene, è arrivato il momento di svelarlo. Per comprenderlo però, dobbiamo analizzare il problema dal punto di vista fisiologico e biochimico e capire come funziona realmente il meccanismo del grasso dominale. C'è qualcosa di fondamentale quindi che devi sapere comprendere. In questo video scoprirai come un organo chiave sia direttamente responsabile quindi della gestione, regolazione, distribuzione e accumulo del grasso nel corpo ed è il motivo per cui è così difficile ridurlo. Inoltre ti spiegherò cosa fare per stimolare questo organo a facilitare l'eliminazione del grasso addominale ma anche quello nei fianchi, nelle cosce e nei glutei, una volta per tutte. Come eridologo è facile osservare con questo macchinario alle mie spalle la fase iniziale e nascosta dell'itero cioè l'ingialimento della sclera degli occhi nei miei pazienti. L'ingialimento della sclera è causata dall'alto livello di birilubina nel sangue. È vero che l'itero si può manifestare insieme a problemi di fegato ma non necessariamente ed è questo il problema. Mi spiego. Si possono avere seri problemi al fegato senza apparenti sintomi o segni come l'itero che ci avvertono quindi della cosa in corso. I sintomi o segni che qualcosa non va col nostro fegato si manifestano solo in una fase già avanzata. Perciò è del tutto possibile avere un fegato grasso senza soffrire di ittero. Per primis dobbiamo perciò assolutamente capire che tutte le volte che mangiamo qualsiasi cosa tutte le volte coinvolgiamo il fegato. Quello che viene poi assorbito nell'intestino viene poi direzionato, indirizzato al fegato tramite l'avena mesenterica. Quando poi il fegato ingrassa allora diventa una minaccia silenziosa per la nostra salute proprio per la mancanza di sintomi o segni iniziali. Questa situazione può comportare condizioni gravi tra le quali il diabete di tipo 2, malattie tiroidee, malattie cardiache e la cirrosi epatica. Possibili cause Le possibili cause Uno stile di vita poco sano come la sedentalità, la resistenza all'insulina, l'obesità o anche condizioni mediche specifiche o anche l'ereditalità genetica. Ognuna di queste cause può agire da fattore o cofattore nell'influenzare quindi la formazione dei grassi e la loro distribuzione nel corpo aumentando quindi il rischio di accumulare il grasso anche nel fegato. Questo video si concentra comunque nel contesto alimentare. Andiamo subito al punto quindi. Ecco la chiara differenza tra un fegato normale e uno grasso. Un fegato ingrassato contiene un eccesso di trigliceridi, biomolecole di acidi grassi chiamate anche lipidi. Il fegato perciò è grasso, emaciato, chiaramente sofferente e malato, quindi, per logica, non può svolgere le sue vitali funzioni al meglio di sé, causando fra l'altro problemi come la mancata riduzione del grasso addominale. Velocemente, YouTube mi dice che centinaia di migliaia di persone che seguono questo canale apprezzano veramente i suoi contenuti, ma non hanno ancora premuto il pulsante iscriviti. Vorrei chiederti un favore. Iscrivendoti al canale ci aiuti a raggiungere più persone e migliorare quindi la qualità dei contenuti. Se hai già guardato alcuni video e ti sono piaciuti, o se stai apprezzando questo video, potresti premere il pulsante iscriviti. Ti ringrazio per il tuo supporto e continueremo quindi a impegnarci per farti conoscere e comprendere i veri fattori chiave della salute per il tuo benessere presente e futuro. Trigliceridi, contributori dell'accumulo di grasso addominale. I trigliceridi sono come goccioline di grasso che si formano nel tessuto epatico infiammandolo. Ciò può, con il tempo, causare seri problemi al fegato, inclusa la pericolosa cerosi epatica. Il problema è accumulativo. Come possono i fattori causativi primari menzionati stimolare la produzione di queste goccioline di lipidi? Quale materiale usano? Abbiamo menzionato i fattori causativi primari. Ora vedremo i fattori causativi secondari. Quando in eccesso, cosa causano il fruttosio, gli zuccheri, gli amidi e i carboidrati semplici in questo contesto? Vediamolo. Eccesso di fruttosio, glucosio e acidi grassi. Il fruttosio è uno zucchero naturale presente nella frutta e in altri alimenti. In linea di massima viene metabolizzato, cioè scomposto, nel fegato, dove viene trasformato in altre sostanze chimiche ed elementi costituenti. Un eccesso di fruttosio è poi convertito in grasso nel fegato. I cosiddetti trigliceridi. Se questi poi non vengono utilizzati o smaltiti in qualche modo, portano a un accumulo di grasso nel fegato stesso, chiamato steatosi epatica non alcolica. Questi sono gli infimi trigliceridi degli esami del sangue, quando senti il tuo dottore menzionare il colesterolo buono, HDL, il cattivo, LDL e i trigliceridi alti. Poi ci sono gli zuccheri, gli amidi e i carboidrati semplici, presenti in una varietà di cibi, i quali durante il processo di digestione e di assorbimento del flusso sanguigno sono rapidamente trasformati in glucosio, lo stesso zucchero presente nei cibi alimentari menzionati, fornendo al corpo una fonte immediata di carburante per la produzione di energia. Quando però si crea un eccesso, un sovraccarico di glucosio, che non viene smaltito dal corpo dunque allora, iniziano i problemi. Il pancreas a questo punto reagisce, producendo più insulina per regolare il livello di glucosio nel sangue. L'ormone dell'insulina, a sua volta, spinge il fegato a convertire il surplus di glucosio in glicogeno, il quale a sua volta, se non viene smaltito, è coinvolto indirettamente in alcuni tipi di steatosi epatica. Questo surplus di glicogeno, inoltre, genera a sua volta una richiesta di più insulina, a causa del glucosio che rimane nel sangue, ed è correlato quindi alla resistenza all'insulina, un processo o circolo vizioso, dunque, legato ad altre condizioni complesse che influenzano molti fattori ed altri problemi di salute, tra i quali appunto il fegato grasso. Il glicosio, in questo eccesso poi, viene convertito in acidi grassi che a loro volta vengono assemblati in trigliceridi, o nuovo grasso, e vengono depositati all'interno del fegato. Questo causa un circolo vizioso, perché l'accumulo di grasso che ne deriva, contribuisce a peggiorare la resistenza all'insulina portando ad un ulteriore eccesso di glucosio nel sangue e di conseguenza alla produzione di più grasso sia nel fegato che nell'addome. Acidi grassi saturi e insaturi Un altro fattore causativo è un eccesso nell'alimentazione di acidi grassi saturi e insaturi. Gli acidi grassi saturi si trovano principalmente in alimenti di origine animale, come carne grassa, latticini ad alto contenuto di grassi, e alcuni oli vegetali contenenti grassi transidrogenati, come olio di girasole, di mais, di canola, di palma ed altri. Ne parleremo in un video futuro di questo, ragione in più per iscriverti al canale. Un'elevata assunzione di acidi grassi saturi, dunque, può aumentare la produzione di lipidi nel fegato, contribuendo direttamente all'accumulo di trigliceridi nel fegato stesso, quindi. E questo è il punto chiave. Come conseguenza, il fegato, essendo affaticato danneggiato e stressato, diventa un cofattore causativo di accumulo di grasso nell'addome, nei fianchi, nelle cosce e nei glutei, impedendone perfino la sua eliminazione. Gli acidi grassi insaturi, invece, sono presenti in oli vegetali come l'olio d'oliva, l'avocado, nelle noci e nei pesci grassi. Possono anch'essi contribuire, ovviamente, all'accumulo di grasso, nel fegato se consumati in eccesso rispetto al fabbisogno energetico del corpo. Tuttavia, l'eccesso di acidi grassi saturi ha un impatto più diretto sull'accumulo di grasso nel fegato rispetto agli acidi grassi insaturi, che possono invece avere altri benefici per la salute, come l'omega 3, se ovviamente consumati con moderazione e nell'ambito di una dieta equilibrata. Quindi, finora abbiamo visto cos'è il fegato grasso e le sue cause, cioè i fattori causativi primari e secondari, come il fruttosio, il glucosio e i grassi acidi. Ora vedremo la soluzione. La soluzione è semplice. Ridurre drasticamente il fruttosio, come succhi di frutta del supermercato, bibite cassate, dolci confezionati, biscotti, cornetti ripieni, caramelle, eccetera. Ridurre il glucosio, il glucosio metabolizzato dagli zuccheri, dagli amidi e dai capodrati semplici, privilegiando invece cibi naturali, integrali, ricchi quindi di fibre, proteine e grassi sani. Per quanto riguarda i grassi saturi e insaturi, consiglierai moderazione e varietà nella dieta settimanale. Avvertimento sugli oli transidrogenati. Tra gli oli idrogenati, quelli considerati potenzialmente dannosi per il fegato e promotori di grasso addominale sono. Olio di soia, può favorire l'accumulo di grasso addominale e avere effetti negativi sulla salute del fegato, specialmente quando consumato in eccesso e in forma idrogenata. Olio di palma, l'alto contenuto di grassi saturi, specialmente se idrogenato, causa problemi di salute al fegato, contribuendo all'aumento del grasso addominale. Olio di mais, può essere proinfiammatorio al fegato e a disfunzioni epatiche, se consumato eccessivamente, può contribuire all'accumulo di grasso addominale. Olio di canola o olio di colza idrogenato, sviluppa grassi trans, che sono associati a rischi per la salute, come malattie cardiovascolari e infiammazioni. Si trova spesso in merendine e snacks definiti salutari. Olio di cotone, spesso idrogenato, presente anche nelle margarine, può contenere grassi trans che sono dannosi per il fegato e possono contribuire all'aumento del grasso addominale. Gli effetti negativi sono principalmente legati alla forma idrogenata di questi oli, che può contenere grassi trans nocivi. La maggioranza di questi oli se surriscaldati in eccesso, sia da noi in cucina o dall'industria alimentare possono produrre sostanze tossiche infiammatorie per il fegato, contribuendo all'aumento dei livelli di colesterolo LDL, dei trigliceridi, e alla formazione quindi di grasso addominale e viscerale. Perciò controlla sempre le etichette di tutti gli alimenti. Eviterei assolutamente i grassi saturi trans, come gli oli vegetali idrogenati. Questo tipo di alimentazione è sostenibile, interrompe la formazione di grassi dannosi e quando è associata al movimento, all'esercizio fisico, quando evitiamo la sedentarietà, quando bruciamo di più e mangiamo di meno, allora potremo perdere il grasso accumulatosi nel fegato, smaltendolo gradualmente. Ora che hai capito il ruolo cruciale del fegato nel perdere peso e grasso addominale, guarda subito questo video e scopri strategie chiave da includere nella tua routine quotidiana per ridurre finalmente il tuo grasso addominale una volta per tutte. Credici, mettici un po' d'impegno e vedrai presto i risultati che ti meriti e che hai sempre desiderato.